Allora, sono 150 partiti che giochi con questa maglia, ma ancora non sei stanco? No, 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 sono 150 però voglio fare 200, 250 e così via. Sono contentissimo di stare qui, io ormai ho questa squadra come la mia famiglia, io sono contentissimo, devo solo ringraziare i presidenti, Lorenzo Pizzi, Alberto Pieri, Giovanni Baldelli, tutti quelli che sono passati, tutti i dirigenti, tutti i presidenti, io ho solo da ringraziare, solo da ringraziare proprio. Una famiglia comunque che promette bene, una famiglia che cerca di recuperare quei punti che gli mancano, persi così all'inizio del campionato, però già i due recuperati stasera e il prossimo turno dove incontrerete proprio i siciliani, c'è la possibilità di raggiungerli. No, certo, è un campionato difficile, tu vai a giocare contro l'ultimo in classifica e puoi perdere perché è molto livellato, ma noi cerchiamo di sempre stare in crescita, crescere sempre, piano piano, è una squadra molto, è nuova, ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo ammalgare la squadra, così solo prendendo il ritmo partita per partita. Complimenti, cosa dire? Grazie, grazie a te e grazie a tutti quelli che lavorano per il Pesaro, per il Torstrivesi Pesaro. Voi fate un lavoro incredibile che per noi è importantissimo. Ok, grazie.